Un tempo, le genti di Gressonei vivevano principalmente di allevamento. Un giorno un gruppo di pastori decise di partire alla ricerca di nuovi pascoli e di esplorare il vallone di Loho. Nel vallone di Loho la foresta era così fitta che gli esploratori non potevano più avanzare. Decisero allora di disboscarla per fare spazio ai pascoli. Mentre lavoravano di buona lena con le loro asce e seghe, gli uomini sentirono un terribile ruggito. Quelle urla erano così inumane che il loro sangue gelò. «E' mostruoso!» gridarono alcuni. «Ritorniamo al villaggio!» dissero altri spaventati. Alcuni uomini tra i più coraggiosi decisero di scoprire da dove veniva il rumore. Lentamente e con attenzione si avventurarono nel bosco e d'improvviso videro il drago. Un gigantesco mostro verde che sputava fiamme. Il gruppo di gressonari scappò via impaurito e arrivati in paese, gli esploratori sconsigliarono a tutti di avventurarsi fin lassù. Per un po' di tempo più nessuno salì nel vallone di Loho. Ma le mandrie avevano bisogno di nuovi pascoli. Così gli abitanti di Gressonei annunciarono «Offriamo il possesso di tutto il vallone di Loho a colui che ucciderà il drago!» La proposta era così allettante che, malgrado il pericolo, parecchi uomini coraggiosi tentarono l'impresa. Ma nessuno vi riuscì. Sette uomini delle frazioni di Shamsil e di Lomatto decisero di tentare la sorte. «Come possiamo sconfiggere il drago?» disse un giovane di Lomatto. «Bisogna approfittare della sua fame insaziabile!» disse un altro. «Dobbiamo unire le nostre forze!» ridarono gli abitanti di Shamsil. «A turno metteremo all'ingrasso un bue!» sentenziò il più anziano. Nel giro di sette anni il bue era diventato enorme. I sette gressonari avevano ricoperto con del ferro le sue corna per renderle affilate. Portarono allora il bue nel vallone e lo abbandonarono come offerta per il drago che lo divorò in un sol boccone. Quella notte, nei villaggi vicini, nessuno riuscì a dormire a causa delle urla spaventose provenienti dalla foresta di Loho. Erano le grida del drago sventrato dalle corna affilate del bue da lui appena sbranato come previsto dai sette uomini. Alle prime luci del sole la gente, salita a Loho per scoprire cosa era successo, trovò il drago morto in un lago di sangue. Da quel giorno nessuno ebbe più paura di salire nel vallone per raggiungere i ricchi pascoli dei sette astuti contadini che avevano ucciso il drago. Comenus Regio 2011-2013 porté par la region autonome della Valle d'Ost, Italie e la meri di Bigan, Francia. Progete dei conti dans nos langues du bilinguisme au plurilinguisme. M M M M M M Grazie per la visione!